Buongiorno, stamattina andiamo ad aprire un pacco di Candy Sun che è arrivato esattamente dopo due mesi e mezzo, non mi sembra vero ragazze, l'ho ordinato ai fine novembre, più o meno il 25 di novembre, due mesi e mezzo, so che comunque non è colpa del sito ma è colpa delle poste italiane, fa niente. L'importante è che sia arrivato, ho fatto un ordine di gashapon e ho preso anche un popping cooking e niente, io ho usato una sbirciatina perché ho tolto lo scotch in modo da poter aprire i gashapon più facilmente. Allora, questo è l'omaggino che mi hanno messo dentro, è di One Piece, lui è Chopper, e questi penso che siano, sentine così, devono essere penso dei fazzoletti, fazzoletti di carta, molto carini. Poi, questo qui è il foglietto del sito Candy Sun e questo, qui si vede, è quello che ho preso. Allora, ho voluto provare, so che l'avete visto, rivisto e stravisto, ma ho voluto provare questo, a prendere questo popping cooking. Non so se farò il video, adesso vediamo, magari mentre provo a farlo, giro il video, vediamo come viene. E niente, allora, questo è uno. Poi, allora, partirei con questi qua più grandi. Allora, adesso io non mi ricordo neanche più bene cosa ho comprato. Dunque, qui abbiamo, allora, forza e coraggio. Allora, ce la posso fare, ho letto allora i 250 volte. Dunque, questo qua è quello di Gudetana. In bianco e nero, se capisne gotta. Boh, andiamo ad aprire. Oh, che carino! Aspettate, vediamo se riesco a mettere il foglio bene. Oh, che carino! Questo è il suo... Chi sa tradurre il giapponese. Ed è... Questo qua grosso, sì. E questo. Bellino. Poi, questo. Magari se mettesse a fuoco. Grazie. Questo è ancora... Il foglietto non lo guardiamo perché fa parte della stessa... Oh, che carino! Sì, vabbè. Eccolo! Che carino! Si rompe l'uovo! Dai! Qui abbiamo sempre il fumetto. Abbiamo trovato... Questo qua. Molto carino. Poi, spostiamo perché... Va fuori... Oh mamma, io ho... Con sto telefono... Questo... I Pokémon! Veramente, io non mi ricordavo più... Ah, ok. Questo qua l'ho visto da Nese Time. Io neanche mi ricordavo di averlo ordinato. Allora, questa qui è tutta la check. Vediamo se riusciamo. Ok. Che carini. Bello. Allora. Noi abbiamo trovato... Ah, Psyduck! Carino! Oh, amore! Sì, diciamo che adesso con la calza di Natale è un po'... Non c'è tra niente. Però, fa niente. Poi! L'altra calza... Vabbè, la check ve l'ho fatta vedere prima. Oh, ditto! Che carino, amore! Bello! Poi... Non lo so, le apro a caso perché io veramente non mi ricordo più cosa ho preso. Spostiamo un po'. Allora, questo qui... Vediamo. Allora, guardiamo prima la check. Dunque, questi qua sono... I gattini. Se magari mettesse a fuoco il nostro adorato telefono che non ci aiuta. Che carino questo! Oh! Ok, vediamo. Oh! Abbiamo trovato questo traporto. che carino! Questo è... Bello! È della Bandai? Che carino! Poi, io do i gatti. Infatti, non guardate il casino, ma vi faccio vedere... Aspettate, eh. Aspettate, eh. Vediamo se riesco ad alzare pian pianino e farvi vedere nella scatola di Candy Sun Milady! Milady! Che amore! Riabbassiamo. Io ho circondato da questi animaletti adorabili. Allora, abbiamo trovato il gattino. Poi... Penso che avevo preso un po' di cose di gatti. Allora. Questo mi sa che è a tema Halloween. Ciao! Il gattino sulla scopa. Il gattino con il libro di magia. Magari mettersi a fuoco. Il gattino con il pentolone. Dai! E noi abbiamo trovato il gattino con il pentolone! No, vabbè! Dunque, com'è che si mette? Ah, ok! Questo va appoggiato così. E questo va messo così. Intanto non metterà mai a fuoco. Sì, certo. Volevo farvelo vedere bene. Eccolo qua. Oh, che bello! Riportiamo la nostra immagine come la prima. Ok. D'altronde, mi si è rotto... Scusate, ma mi si è rotto il cavalletto, quello per il telefono. Sto usando quello per la fotocamera, che è gigante. E ho il cavalletto appoggiato sulla sedia. Io sono in piedi e sto facendo un disastro. Apriamo questo che... Ah, è uguale a quello lì del pentolone. Vedete? E mi sa che abbiamo trovato l'altro pentolone. Beh, l'importante è che non sia uguale. Eccolo qua. Facciamo così. il gatto che si appoggia e la mela viola. viola. Bello. Sto facendo un disastro su quel tavolo qua. Ci vorranno sei ore a mettere via tutto. Mileni di disposti, amore. Grazie. Poi questo che è... Cos'è? V2T ma l'altra volta. Ma che fantasia, ragazzi. questa è la check eccolo qua. Andiamo a vedere. Ecco. Che carino. qual'è che è? Questo. Eccolo qua. Noi, che teno. Ecco, mi piacerebbe sapere cosa c'è scritto. Se qualcuno conosce il giapponese mi faccio sapere cosa c'è scritto. Poi ne abbiamo ancora oh mamma tantissimi. Questo aspettate che spostiamo. Questo qui fa parte ancora di questa qua dei gatti. Abbiamo trovato sto divertendo un casino. Ah, quello del libro delle pozioni. che bello. Dunque. è scritto che cosa coreano. Vorrei fare la figa con il telefono. Bello. Eccolo qua. molto bello. Poi mi sta venendo anche mal di schiena a girare le video in piedi. Ok, devo forse devo prendere un un treppiede nuovo. Allora, questo qua ci sono i cricetini. Che carino nella tazza. Questi qua che carini. Noi abbiamo trovato si vede già abbiamo trovato questo qua. No. Mazza. Io ho tirato via solo lo scotch. Aspettate. Fate pazienza. Due secondi e lo apro ci sto riuscendo. Eccolo. l'ho tolto solo lo scotch dalle scatoline. No. Ma amore. Che carino. Intanto c'è il cane che mi sposta la sedia. Aspettiamo anche qua. Poi allora aspettate che qua stavo avendo il gatto dentro. Ecco infatti stavo nascondendo uno. Ne abbiamo ancora tre. Portate pazienza. vediamo di fare in fretta. Ok. Questo ha ancora cricetti e oh no i cagnolini no vabbè cosa c'è dentro allora gatto cagnolini maialino cagnolino criceto criceto spero un gatto un cane oh sì grande ma no ma sono troppo belli adesso a parte tutto bello no ma è troppo stupendo è questo qua bellissimo poi penultimo ancora il cricetino non voglio vedere cosa c'è dentro ancora il cricetino ok noi abbiamo trova quello adesso 7 ore di video dunque vediamo di prendere qualche pezzo allora questo qui questo che praticamente va così così no ragazzi c'è di temistrone la pucciosità fatta cricetino mare che bello no troppo contenta di quello che ho trovato veramente e passiamo all'ultimo gashapon ok ed è ah questi qua dei gatti che fantasia incredibile scappa da ridere perché tutti i gatti intanto mette a fuoco e noi abbiamo troppo no quello sul pancake si chiama no o il dorayaki no come è che si chiamano i dolcetti quelli un inglese che fa alquanto paura mette a fuoco no ma cos'è ciao sono troppo belli ma che carino bandai anche questo dunque noi abbiamo trovato questo no bellissimo ok io con tutto il mio disastro sul tavolo vi saluto non vi dico qual è il mio preferito perché mi piacciono tutti e niente io vi saluto spero che il video anche se lungo impacciato incasinato tutto quello che vi sia piaciuto io vi mando un bacio grosso grosso e ci vediamo alla prossima ciao ciao